Alda Merini, da Fogli Bianchi, ventiduesimo inedito. È morta l'ubriacona della ripa, quella che si aggozzava col pesce vivo, che pareva una vivandiera dietro la macchina del suo caffè. È morta di indigestione. Al posto del cuore aveva una marmitta di spade e di spaghetti muffiti. È morta la pietra santa, che faceva solenni libagioni. È morta di turpitudini e di mal di stomaco vecchio. La piangono tutti i barboni che da lei sorseggiavano il vino. Io no, non la piango. Ricordo il suo ventre vigoroso di sangue e di banchetti e dico una biscia in meno nel bosco diritto dell'uomo.